Quanto è importante la fiscalità in un processo di restructuring? È molto importante perché l'erario è come le banche e gli altri creditori uno dei soggetti che guardano al debitore con l'obiettivo di poter incassare i propri crediti. Fare delle scelte sbagliate significa portare dei risultati negativi al piano di riparto finale e quindi anche alla capacità di rimborsare tutti i creditori. La fiscalità con l'aliquota che abbiamo circa il 30% quindi è uno degli elementi essenziali nel scegliere quale tipo di struttura nell'ambito dell'istituzione a fare riferimento. Grazie, congratulazioni.